Il comune di Ladispoli continua ad opporsi al passaggio del servizio idrico alla CEA. In regione si sono riunite nuovamente le commissioni ambiente e tutela del territorio per discutere le posizioni di quelle amministrazioni che ancora resistono all'ingresso in auto 2. L'assessore lavori pubblici Mauro Alessandri si legge in una nota del comune di Ladispoli ha ribadito che la Pisana dovrà applicare i poteri sostitutivi inviando un commissario se la situazione non cambierà. Allo stesso tempo ha ammesso la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti sulla particolare situazione che vivono quei comuni che gestiscono in proprio il servizio idrico con buoni risultati. Inoltre i consiglieri presenti si sono espessi a favore dell'istituzione di un tavolo tecnico tra i rappresentanti della Regione, del Ministero dell'Ambiente, della Commissione parlamentare che sta esaminando la nuova proposta di legge sull'acqua pubblica e i comuni che si oppongono al passaggio. Da questo incontro dovranno scaturire indicazioni e risposte sui dubbi sollevati dagli enti che, come il nostro, rifiutano l'ingresso forzoso in Acea, termina l'amministrazione di Ladispoli.